Ciao, come è andata? Ciao ragazzi! Ciao! Cosa è successo? Niente, mi hanno rubato 30 euro. Dove? In palestra. Eh, siamo stufi di tutti questi furti, adesso basta. Volevamo proporre questi armadietti, così almeno durante le ore di palestra mettiamo dentro gli oggetti di valore. Saranno circa 100, ovvero 50 per scuola. Vabbè, poi magari se ci sono più persone che vogliono un armadietto durante quell'ora, io posso condividerlo con un'ora amica. Bello, ci sta! Lo volterò. E ti prevedo i furti. Comunque io sono Rebecca, io sono Nessia e io sono Martina, siamo del studio Giappa, classe prima. E vi consigliamo di votare la nostra idea.